In questo spazio ci sono i piccoli amici di Mister, di Billy, Mister Antonellucci e Di Piero, Matteo, stanno qua, chi sta? Stanno, ah sta stanno, è venuto Luca? C'è Luca? Assente, bravo, sei stanco? Ecco i piccolini di Mister, Billy, ognuno ha il suo pallone e si divertono. Ci troviamo in questa struttura polivalente coperta, detto comunemente il pallone, dove più piccoli sono più a calduccio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.